Ciao a tutti, sono Manuel. Io sono motociclista praticamente da sempre. Guido moto da quando sono molto piccolo e ho sempre tendenzialmente guidato moto sportive e super sportive. Ho conosciuto moto argento, direi per caso, navigando su internet e sono venuto per una mia curiosità personale e appena sono entrato mi sono praticamente subito, è stato come se fosse un colpo di fulmine sostanzialmente. Ho acquistato diverse Ducati e qualche Aprilia, un paio di RSV4, un panigale e ho avuto una piccola parentesi con un BMW 1250 GS che poi però in realtà non era la mia moto, poi sono ritornato sulle super sportive. Ho scelto moto argento perché è fondamentalmente in assoluto la varietà di moto proposte e poi per il rapporto che si è staurato poi con Fabio, primo come cliente poi come amico. In assoluto l'Apriglia RSV4 perché secondo me per il mio stile di guida e per come sono io è stata la moto che mi ha dato più soddisfazioni a livello di guida, a livello di varie cose. Assolutamente sì, sono rimasto sempre molto soddisfatto e anche le piccole problematiche che ho avuto sono sempre state risolte in maniera molto professionale e soprattutto molto veloce. La professionalità in primis è l'attenzione verso il cliente. Ho consigliato e consiglierei e sono rimasti tutti sempre molto soddisfatti e contenti della chiamata. Un saluto a tutti, vi aspettiamo da Moto Argento. Grazie a tutti.